Cari amiche e cari amici, questo è un articolo di Roberto Pecchioli intitolato WOC, la dottrina del risveglio. Come è potuto accadere? Come è possibile che sia crollato tutto? Capovelligimento dei principi basici della comunità, censura, proibizionismo verbale, politicamente corretto, blocco del pensiero, paure e divieti diffusi a piene mani. La rivoluzione francese iniziò con egalité, liberté, fraternité, e finì nel terrore, nella ghigliottina quotidiana di massa, davanti alle tricoteose indifferenti, la banalità del male. La grande cancellazione, il reset, diventato progetto concreto, e il divieto della libertà, del libero pensiero, la prevalenza schiacciante di monopoli privati rispetto alla dimensione pubblica. Nel cruciale Entereller, opera di Soren Kierkegaard, che esplora le modalità esistenziali della vita etica e estetica, il pensatore danese giunge a una sconsolante conclusione attraverso un aneddoto. Scoppia un incendio nel retroscena di un teatro. Un attore vestito da pagliaccio esce per avvertire il pubblico, e tutti pensano a uno scherzo e cominciano a battere le mani. Lui ripete ancora, e l'applauso aumenta ancora di più. Penso che sia proprio così che il mondo finirà tra gli applausi degli astuti, statuti convinti che sia uno scherzo. L'incendio non solo si è propagandato ovunque, ma ruola nuovi piromani, mentre i pompieri latitano. Troppi pensano che sia tutta una messa in scena. Gli incendiari, tra l'altro, sono convinti della necessità liberatoria del rogo. La scintilla si è fatta in fiamma, e chi la alimenta ritiene di essere woke, risvegliato. Woke è uno dei termini in voga nel mondo anglosassone, tra i protagonisti dell'ondata distruttiva in atto. Si a tutti finisce woke, che è consapevole delle ingiustizie sociali, in particolare del razzismo, significa sveglio, vigile, cosciente, la scimmia postmoderna della coscienza di classe marxiana. L'aggettivo woke nasce nello slang afroamericano negli anni Sessanta, con il significato di ben informato, aggiornato, e poi si diffonde nell'essico comune, grazie all'incitazione e gli hashtag stay woke, usati per tenere alta l'attenzione dei media sociali, sulle questioni sollevate dal movimento Black Lives Matter, e la dottrina del risveglio di una generazione il cui unico intento è la cancellazione. La nostra definizione fa riferimento al titolo di un saggio in cui Julius Evola si proponeva di mettere in luce la reale natura del buddismo, contrapposta a quella dottrina ridotta, un sostegno di una debole etica, avente per fondo la compassione, l'umanitarismo, la fuga dalla vita, perché la vita è sofferenza. Il risveglio nella forma woke contiene la stessa degradazione, il medesimo vuoto del falso spiritualismo. Non sorprende che Tim Cook di Apple abbia tenuto un'applaudita conferenza presso un gruppo di attivisti woke, i sedicenti social justice warriors, i guerrieri della giustizia sociale, la nuova sinistra estremo americana. Il multimiliardario affermò senza vergogna di avere un solo messaggio per coloro che promuovano odio, divisione, violenza. Non c'è posto per voi nelle piattaforme. La domanda è ovvia. Chi decide ciò che è odio, divisione, violenza? E la risposta è irrefutabile. È loro stessi. Big Tech, la plutocrazia giacobina, con l'appoggio della cultura politicamente corretta, degli indignati, offesi e l'applauso della piazza woke, i sonnambuli che si credono desti. Istruttiva è la motivazione di Twitter per la chiusura dell'account di Trump, poiché il satana del ciuffo biondo non assisterà all'insediamento di Joe Biden, ciò potrebbe essere interpretato come un invito ad attaccare il nuovo presidente. Avvolti nel mantello del buonismo, i cosiddetti risvegliati non perdono occasione per difendere la libertà di espressione, ma solo dalla loro parte. Nulla di nuovo. I giacobini esclusero dalla tolleranza gli intolleranti, categoria comprentente in tutti quelli che non erano giacobini. Karl Popper non la pensava diversamente. La sua società aperta era chiusa a chiave sigillata agli avversari. John Locke, padre nobile di tutti gli woke della terra, dopo la gloriosa rivoluzione inglese di fine 600, scrisse la lettera sulla tolleranza da cui escluse i cattolici. Ripugna il senso di superiorità morale, autentico razzismo etico, da cui è animata la schiera woke. Una sua esponente, la giovane scrittrice Gia Tolentino, ex studentessa di una ricca scuola privata evangelica. Per lei l'educazione religiosa ha prontamente rinnegata e per lei, dicevo, ha avuto un unico merito. Mi ha dato una prospettiva a questa educazione e una visione di sinistra sul mondo. Eh già, essere di sinistra significa aderire al bene assoluto, identificato con l'idea di uguaglianza, relativismo etico e soprattutto un ossessivo antirazzismo. A noi atterrisce il greve materialismo dei cosiddetti risvegliati, inveramento degli ultimi uomini di Nietzsche che ammiccano e credono di aver inventato la felicità nella cancellazione, nel rifiuto dell'identità e dell'eredità. Strano risveglio, carico di odio, una smania di fare tabula rasa che non distingue il bene dal male e che a manemico chiunque attraversi la strada sia riconosciuto diverso, un assolutismo utile, idiota del totalitarismo, privo di ogni ideale, di cui movimenti come quello woke e i guerrieri della giustizia sociale, pupazzi in mano all'oligarchia miliardaria, sono le truppe d'assalto e la polizia politica volontaria. Nella dottrina del risveglio woke tutto è tremendamente semplice, loro sono il bene e la verità, e chi non la pensa come loro non è qualcuno che sbaglia, perde la qualità di uomo, diventa nemico assoluto, di cui è giusto morale perseguire la distruzione, come spiegò molto bene Kara Smith nella teoria del partigiano. È una visione da cui assente il labirinto, eh sì, lì, tutto è rischiarato, illuminato, procede in linea retta verso il bene e coincide con l'uguale, l'equivalente. Alcuni mesi fa è apparso un articolo illuminante del filosofo americano Eduard Faser, l'ideologia woke è un disordine psicologico. Tesi di Faser è che la tendenza alla tirannia che già Platone attribuiva alla democrazia e la conseguenza dell'egualitarismo, del relativismo morale, della licenza sessuale. Non esattamente caos di destra. È anche il significato della famosa allegoria della caverna di Platone. Gli abitanti delle caverne sono incatenati in modo tale da non vedere altro che immagini oscure proiettate da statue e fiamme tremolanti, rappresentazioni di oggetti. Quando un abitante della caverna fugge, scopre che tutto ciò che lui e i suoi simili avevano chiamato realtà non sono che rappresentazioni distorti. Ombre. Ritorna, cerca di spiegarlo, ma gli altri lo giudicano folle, tanto offesi dalla sua critica alle loro certezze e al punto da cercare di ucciderlo. Gli abitanti delle caverne rappresentano i cittadini della democrazia, le ombre sul muro sono le credenze illusorie, diffuse dalla retorica dei sofisti e demagoghi. E l'uomo che fugge? È il filosofo. Socrate è nel modello platonico. Gli oggetti nel mondo fuori dalla caverna rappresentano le forme, la natura delle cose. Il sole che l'illumina corrisponde a ciò che Platone chiamava la forma del bene, di origine divina. L'ostilità degli abitanti delle caverne nei confronti dell'Evaso è la stessa dei cittadini nei confronti di Socrate, condannato alla democratica Atene. Oggi, gli esponenti della sinistra, sedicenti guerrieri della giustizia sociale, veri cani da guardia dell'oligarchia dominante, fanno la guerra alla polizia, bruciano aziende, rovesciano i monumenti, opprimono i dissidenti, ne distruggono spietatamente reputazione e sostentamento in nome di un programma intersezionale fatto di socialismo rimasticato e la liberazione radicale. E poiché risvegliati e consapevoli woke conoscono solo la cultura dei loro ispiratori, saranno sorpresi di riconoscere, se ancora un briciolo di senso critico è rimasto nel loro intelletto perfetto, ebbene saranno sorpresi di riconoscere che la cosiddetta personalità autoritaria descritta da Adorno è proprio la loro. Nel 1950 Adorno e gli altri della scuola di Francoforte pubblicarono uno studio che fece epoca. Loro bersaglio era l'autoritarismo, che ricondussero a vari atteggiamenti definiti fascisti. La scala F del testo. Si trattava, tra le altre cose, dell'affermazione della forza, la distruttività, il cinismo, intesi come ostilità contro la natura umana, la proiettività in senso psicoanalitico, ovvero la percezione del mondo come pericoloso e la tendenza a trasferire all'esterno impulsi inconsci. La nozione stessa di politicamente corretto è un richiamo tirannico progettato per sopprimere la libertà soggettiva, l'immaginazione individuale, quella che chiamano rigidità fascista, rigidità fascista. Eh sì, nel beato universo woke, chi sono i fascisti? Eh, sono tutti gli altri. E oggi, appannaggio delle categorizzazioni di segno progressista, maschio, bianco, eterosessuale, privilegiato, suprematista, razzista, nessun diritto di tribuna sui media liberal, per qualsiasi voce diversa. I media mainstream non permettono alcuna altra voce. L'ossessione per il dominio è il marchio di fabbrica dei giganti di internet, il cui potere di cancellazione è l'equivalente del rogo dei libri. Chi distrugge statue, monumenti, ha la stupida convenzione di riscrivere la storia. L'ostilità verso la natura umana si manifesta perseguitando chi mette in discussione discorsi egemonici. E i social rimuovono i video, censurano i politici eletti, le voci dissenzienti, perché la minaccia è la destra, fascisti, e tutti coloro che si rifiutano di sottostare alla narrazione imposta. Fascisti, fascisti, fascisti! Adorno proiettava negli avversari atteggiamenti che gli erano vicini. Otto Weininger proclamava che odiamo negli altri ciò che odiamo in noi stessi. E i ribelli sono sempre una minoranza. La loro resistenza potrebbe sembrare inutile, ma gli effetti a lungo termine resteranno, perché i sonnambuli woke non prevarranno. Bene, cari amici e cari amici, vi chiedo un piccolo contributo per incoraggiare il lavoro del decimo toro. Mantenere in vita il canale attraverso una pubblicazione quotidiana e un aggiornamento costante di video o farlo diventare un canale nel quale i video vengono pubblicati saltualmente dipende anche da te che mi stai ascoltando. In descrizione c'è scritto come fare. Un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo